Allora? Non so hai portato una roba T'ho portato un regalo Sembra... Veramente un regalo Sembra fighissimo Guarda guarda la confezione La confezione con questa pelina Non vedo... Non vedo rifarla a boxy Vedo non vedo Che figa Guarda che roba Però c'è... c'è un papillon In trasparenza Si intravede Secondo me è un mini smoking per... Per tarughe Per quando divento Ant-Man Quelle volte che Il cui diventi Ant-Man Allora Però io voglio che In realtà lo aprite Perché è un mio regalo E' importante E' importante aprirlo Infatti è un... Un mini smoking mi sembra Esattamente Dell'Alelo Mini smoking dell'Alelo Tux che dovrebbe essere il... Il nome? No forse Tux se non sbaglio E' proprio il significato Trademark In inglese In americano Tux è... No... Taxido è lo smoking Tux bravissimo hai ragione Però Tux con un TM Immagino che sia un... Che ho già stato di l'Alelo molto importante Ti dovrebbe far venire qualcosa esatto Intimate apparel Intimate in che senso? Comunque intimo quindi diciamo Che può significare o Che ci genere una certa intimità Chiacchierando con lui Si... O che per le parti intime Intimates... Anzi... Tax intimate apparel for men Ok Dare to be daring C'è anche in italiano tanto che fai lo splendido eh Ah no... Eccolo qui... Te lo traduco allora in tempo reale Traducimelo in tempo reale Vediamo vai Perfetto per quegli incontri sensuali che richiedono un look formale Tux è realizzato... Ma stiamo scherzando Allora per tutto scusa ti fermo già qui Quali sono gli incontri... Sta succedendo davvero Gli incontri sensuali che hai fatto che hanno richiesto un look formale? Beh è importante in ogni... A parte che gli incontri sensuali mi fa molto rigore Ma l'incontro sensuale Questa è una traduzione sbagliata Che è ovviamente incontro sessuale Per favore incontri sessuali Esatto Che richiedono un look formale Beh non so per esempio Per esempio tipo Sei vestito molto elegante vai a mangiare Incontri una Sì Amsterdam per esempio Esatto Mi capita spesso di andare in In Tuxedo ad Amsterdam In quel caso è richiesto un look formale direi Esattamente Tux o Tux è realizzato in raso e rifinito da un papillon E rappresenta l'accessorio indispensabile per l'uomo Che vuole stupire Io non ho ancora capito che cazzo è sta roba L'uomo che deve stupire quindi Ok C'ha anche delle feature vedo Abbigliamento intimo di lusso per l'uomo Quindi delle mutande forse Taglia unica, veste tutte le misure Questa è importante Vedo che già Agia Comincio a capire Tessuto di raso Lavare a secco Importante Non vorremmo mai che si rovinasse il nostro Tux o Tux Impressione indimenticabile garantita Ecco lì Questo è lo step finale Vabbè adesso lo tiro fuori Così magari capisco Adesso tiralo fuori in tutti i sensi Secondo me dalle dimensioni potrebbe Potrebbe essere un perizoma Potrebbe essere un perizoma Un perizoma che si vede davanti Sì un'apertura un po' complessa devo dire Non hanno fatto un'apertura intelligentissima Purtroppo non ho dietro il mio coltellino per l'unboxing Quello specifico C'è anche vedo un bigliettino da visita Come vestire Come indossarlo Bella anche tra l'altro Bella carta Molto figa Guardate che figata che è Super Super rifinita Goffrata Tux Intimate Apparel for Men Della Lelo How to wear Non è comodissima da leggere questa scelta Come indossarlo Sleep into tux and secure with the band Positioned beneath Ok quindi c'è un elastico Ci devi infilare dentro qualcosa Ci devi infilare dentro qualcosa e poi c'è un elastico Comincio a capire allora Tanto io ti vorrei far vedere la chicca dello sfondo Molto bene Cioè tipo sei a New York A New York tutti indossano Esatto quindi c'è anche una ricerca sullo sfondo E' importante importante Poi andiamo a provare a toglierlo senza spaccarlo Troppo pure spaccarlo tanto Ciò che conta è l'indossamento Indossazione Ce l'ho ce l'ho Eccolo qui Allora comincia ad essere importante Comincia ad essere molto chiaro di cosa stiamo parlando Non ho la minima idea di come sia possibile che esista questa cosa Come sia possibile pensarlo Praticamente è uno smoking per il cazzo Esattamente Ma il bello è che quello che c'è scritto sul sito E' uno scaldapene in realtà La definizione Che è più sottile Perché non è lo smoking del cazzo Però Che può anche essere brutto quando lo dicevi Che c'è lo smoking del cazzo Però a me se mi dici scaldapene Mi sembra una roba che indossi durante la giornata Ossi oppure la notte se fa molto freddo Per te però Non per altri Io ho freddo Io sono super dotato So che anche tu ti fai rispettare Però io non so chi ha riposo Ha una cosa grande E' gigante E' gigantesco Perché più d'altro va stretto Cioè vuoi fare Perché poi ricordo che Taglia unica veste tutte le misure Giustamente erano fatte enorme Quindi si va dal giamaicano Esattamente Al giapponese Esatto Questo è E che complesso Perché ha un elastro effettivamente Cioè va bene per le dimensioni più grandi Quelle piccole Ma quello è un problema serio Per i poveri che magari comprano il loro 26 euro 26 euro investiti E dici voglio finalmente far vestire bene il mio piccolo pene Il mio piccolo pene Purtroppo siete sfortunati Perché qui è assolutamente big bamboo size mi sembra Extremely big bamboo size Poi tra l'altro come si indossa Esatto bravo Esatto il pene La punta La punta E' sopra No ma non solo Tu ce l'hai messo Simula il tuo pisello Esatto Cioè praticamente Esatto Non così capisco che ce l'hai grande Però tu quando l'indossi lo metteresti così o così Cioè lui si addrizza No si addrizza Eh ma si addrizza guarda te o guarda il partner Io lo farei guardare il partner Quindi così La partner La Magari Io non l'ho voluto esagerare Ho detto il partner perché non posso mai sapere scusa Io sono sicuro invece Comunque diciamo Questo è il problema Però 3 dita è aggressivo eh Si indossa Scusate Non capisco che devi far finta Facciamo double E poi dopo di qui spunterà diciamo Praticamente è una testa di cazzo elegante Eh si perché poi il papillon ti finisce esattamente No no Sulla capocchia C'è anche la rosa raga No ma è una qualità incredibile Quindi tu diresti Quindi messo in quel modo Tu lo indosseresti quindi così Si così Però il problema è che poi casca Eh Quindi devi sempre stare In erezione In erezione totale Quindi non è uno scaldapene in realtà Perché lo scaldapene Però lo definisci scaldapene Ma per me lo scaldapene è una roba che indosso Magari se sono scoffese no? Eh si esatto C'ho il mio bel kill Non ho le mutande Vado fuori Vado fuori e dico Mi indosso il mio bel scaldapene Tipo sciarpetta Tipo sciarpetta Poi tra l'altro sarebbe anche sbagliato Dovrebbe chiudere anche la capoccia Eh direi assolutamente Che magari è anche più comodo di questo elastico letale Che mi fa male solo a guardarlo C'è un rischio ottimo Ah una circonferenza mostruosa Cazzo se hai messo l'elastico fallo più corto Che lo allarghi Ma probabilmente aveva paura Che se veniva troppo piccolo Cioè ti bloccava la circolazione E non avevi più erezioni Ma succederà senz'altro Cioè è gigantesco È veramente molto grande È enorme Infatti capisco l'apprestamento magari Della donna Dici cioè se tu ti presenti con questo Però la donna apprezza E ti dice cazzo Guarda che sei riuscito a tenere su Se lo riempi Se lo riempi senz'altro fai bella figura a prescindere In più l'hai anche vestito bene eccetera Il problema è che il 90% È dura Degli esseri umani Sicuramente tutto il mercato orientale È chiuso Il mercato orientale è proprio fottuto Completamente Magari sbottone e sbucca da qua Non so È vero C'è questo bottone che è molto comodo magari per quello Cioè apri la giacca e viene la sorpresa Comunque Normo dotato Super dotato Carallelo Allora prima cosa Multimisura Perché questa cagata di Taglia unica veste tutte le misure Sembrano i cappellini da basket Taglia unica No assolutamente Taglia unica Non può esistere Più O meglio non so con chi l'hanno disegnato Cioè che hanno preso come il penito per il design Ti hai capito? Cioè potrei metterlo alla telecamera Esatto Più Il mercato asiatico cinese è sicuramente molto importante Assolutamente Un miliardo e mezzo quasi di persone E quindi facciamo che facciamo anche la taglia tiny Esatto Oppure normal Perché è brutto dire taglia piccola No Perché quella cosa con i preservativi taglia piccola No facciamo tipo large Extra large Super large Big bamboo Esatto Siete partiti da big bamboo Probabilmente l'elo e l'amministratore delegato È proprio Uno che la sa lunga Braccio forte lo chiamano Comunque 26 euro Però esteticamente è molto bello Esteticamente è bellissimo Sì Ma tutto in raso è bello Di avere veramente una canna importante Però una volta diciamo Impossato Allestito Fai la tua figura Immaginatevi no sul letto Donne Esci dal bagno Un bell'uomo Esci dal bagno Vestito Sì però drittissimo Eh beh Sei uscito dal bagno Io almeno stavo sdraiato così Almeno si è andata È proprio in piedi E lui è dritto È proprio sull'attenti proprio Esattamente Così Pensa che figura Che figura Incredibile proprio Che poi tra l'altro unica Guarda l'ultima cosa poi chiudiamo La scomodità lo sai qual è? Che lo devi svestire Cioè Prima di È giusto Ecco poi Altro consiglio per la Lelo Veloce per aprirlo No invece secondo me Se questo Bottone Non fosse tutto finto Perché in realtà Internamente è tutto cucito Esatto Se la donna potesse proprio Sbottonare Esatto E potessimo evitare Questo elastico mortale Che mi fa male solo guardarlo Cioè se fosse regolabile Con il bottone Sarebbe fighissimo Sarebbe molto figo Io ne comprerei in grande quantità Guarda che non è male E poi Si è partiti dallo smoking Ma in realtà si può fare tutto Cazzo Cioè Maglioni Pile Costume Una camicia Una bella camicetta E poi anche i pantaloni Perché Perché lasciare scoperte le palle Voglio dire È importante Le scarpe C'è il resto Big Jim fondamentalmente È fighissimo effettivamente Ma poi ho detto Proprio la scena mi piace questa cosa Del sbottone È anche un modo per rompere il ghiaccio Tu esci Sì Che non sai come approcciare in quel momento Sbottona Sbottona E poi dopo c'è C'è la sorpresa Gli addominali Quindi diciamo Un buon primo tentativo Da migliorare Da migliorare Assolutamente migliorare Carallelo Però insomma Bella idea Assolutamente originale Mi sembra È insomma Va bene dai Praticamente Un vestito del cazzo Eh sì Uno smoking del cazzo Ok